Ogni son desideri Se entra ai 16 e 21 anni e da sempre hai desiderato di diventare una principessa partecipa subito al concorso Cenerentola per un giorno. La fortunata vincitrice avrà a me come fatta madrina e io seguirò tutto di lei per quella giornata speciale. Il trucco, i capelli, creerò un abito assolutamente unico perché così il sogno realtà diverrà.